Diareggio Singapore, missione compiuta. La trasferta di lavoro del presidente del carnevale Alessandro Santini e dello staff ha portato risultati concreti. Ecco cosa dichiara appena rientrato dal viaggio il numero uno di Palazzo delle Muse. Un accordo che verrà siglato già entro le prossime due settimane. Loro hanno indicato che cosa vogliono da noi, noi tecnicamente gli abbiamo spiegato che cosa possiamo fare per loro. Un accordo che potrebbe essere il ponte per una stabile e proficua collaborazione. Singapore pagherà totalmente la trasferta, il viaggio del materiale e delle costruzioni che saranno non carri esistenti ma vere e proprie opere ex novo. E sarà la fondazione a scegliere quali e quanti carristi le realizzeranno. Due, tre costruzioni ad hoc per il Gran Premio. I piloti di Formula 1 sfileranno sulle costruzioni commissionate dalla Fondazione Carnevale per il Gran Premio e saranno totalmente spesati dagli organizzatori del Gran Premio. Da parte della fondazione l'impegno è di finanziare la costruzione di questi carri speciali, le cui ricadute economiche saranno sul 2013. Insomma, conclude Santini, un'opportunità da non perdere. È un'operazione di un'importanza immensa che porterà la possibilità di intavolare trattative concrete per un gemellaggio Singapore-Viareggio. Una cosa mai vista e golosa gemellarsi con una città-stato con la possibilità pressoché infinita di farsi conoscere da 5 milioni di abitanti e altrettanti turisti in ogni modo.